Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Carlo e oggi siamo qua con un gioco Possiamo dire in anteprima Perché ragazzi sono riuscito a ottenere la key della beta di Titanfall Finalmente ragazzi sono riuscito a ottenere questo fantastico gioco Ho fatto bene una partita quindi lo scopriamo insieme Facciamo subito play, connecting, ci connettiamo Cioè è un gioco dalla partita che ho fatto che mi sembra molto epico Molto in stile code, intanto mi metto le cuffie Se si connettesse mi fa un favore, non mi fa bestemmiare ne subito Però ragazzi sono eccitatissimo Sono riuscito a ottenere finalmente la key della beta 12 giga pesa, infatti pesa veramente tantissimo Essendo una, per essere una beta Perfetto ragazzi ci siamo connessi Attenzione si sta connettendo play beta Play beta Ci sono tre modalità che sono queste qui mi sembra No quattro sono, non so neanche contare ragazzi Facciamo tipo attrition È in inglese ragazzi, io non so bene cosa vogliono dire tutte queste modalità Cosa siano Facciamo attrition, una a caso Connecting Perfetto, abbiamo già trovato la partita Si sta già connettendo Cerchiamo di fare un gameplay Così la cazzo tanto Giusto per farvelo vedere ragazzi Per farvelo avere in anteprima Sto registrando più o meno alle 11 di sera Questo video arriverà domani Più o meno a mezzogiorno La solita ora dell'uscita dei nostri video Devo fare tutto molto alla svelta Perché dovevi registrarlo, editarlo Caricarlo E come sappiamo in Italia Le connessioni non sono il massimo Infatti In media ci metto 3-4 ore A Uploadare un video Eccoci qua ragazzi Uno E il match comincia Vai Se la partita sta iniziando Penso che ci sia una mappa o due forse In tutta la beta Non so Prima la partita che ho fatto era sempre su questa mappa Quindi Oserei dire che ce ne sono poche Ma Essendo una beta In Battlefield c'era Shijio Shanghai E Due modalità forse Quindi Me la sarei potuta aspettare Comunque Oggi pomeriggio Quando ho ricevuto la key Ho fatto tipo I salti di gioia Sul filo del soffitto Poi sono Sceso dalla finestra Sono andato a correre per strada Urlando Boh qualcosa di sconcio Va bene ragazzi Starting in 0 4 3 2 1 La partita è iniziata ragazzi Come vedete È un gioco Da quello che ho provato È un gioco molto frenetico Molto in stile COD Per infatti È stato sviluppato Dagli Degli sviluppatori Di COD Di Call of Duty 4 Penso E Infatti Prima Quando inizi La prima volta che lo apri Che l'ho aperto Vi fanno fare tipo un tutorial Di 15 punti Che è una menata assurda ragazzi Allora Intanto concentriamoci un attimo C'è il doppio salto Come vedete Si può su un tipo Oh mio dio Siamo già morti Intanto non sento Quel che sto dicendo Siamo già morti Però va bene Dai ragazzi Questo gameplay Non potete aspettarvi Che io farò 11 miliardi di K Magari è così Non lo so Magari mi faccio le provate Tipo tutti quelli Ok Ne abbiamo già ucciso uno Ricarichiamo Facciamo cerchiamo Vai E quelli Si possono spottare Tipo i nemici Mi sa che ne ho già uccisi tre Oh mio dio F Granata Ne uccido qualcuno No eh Neanche uno Le mie granate Non fanno mai niente Vai Camperiamocela Un attimo Andiamo di qua Vai Sono concentrato ragazzi Granata dentro Quello morirà È morto Perfetto Sto scopriendo di essere un pro In questo gioco Prima la partita che ho fatto Ho fatto tipo 28 kill Una roba del genere Sono morto un'altra volta Perfetto ragazzi Dai 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 Che ci siamo Mi piace veramente un sacco Questo gioco Essendo una beta Mi sembra Non ho ancora rilevato bug A parte che è in inglese Che mi sta sul cazzo Però vabbè dai Non possiamo Richiedere tanto Per una beta Poveri sviluppatori Dovranno Ovviamente il gioco ragazzi Uscirà anche in italiano Non preoccupatevi Lo spero Più che altro No 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 Uscirà anche in italiano Sicuramente Sto cercando Di riuscire a prendere Il titano Ma il titan titano Titan Titano Titan Più figo E quello Quello mi uccide Mi sa No lo uccido io Grande Fra un po' Dovrei riuscire Anche a prendere Il titano Non so come Cavolo si faccia Forse me devi fare Un tot di kill Prima di Di riuscire A renderlo lagga Ecco Forse l'unico problema Difetto È qualche colpo Di lagge Ogni tanto Quello lì Non muore Fuga Tattica Fuga 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 Muoio E questo È morto Ok Mamma mia ragazzi Sta venendo a fare Un gameplay Della madonna Perfetto Dai 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 Che Eccolo Titan ready Quello muore Me lo sento Oh mio dio Qua c'è già un titano Alleato Questo gioco ragazzi È epico Ma è totalmente La mia mira La mia mira Attenzione Non ho mira Eccolo qua Il mio titano Ho chiamato il titan Sta arrivando Non uccidetemi Sì Entra Veloce Guardate l'animazione Quando entra nel titano Titan Titan Dico due nomi Per non ripetere sempre Quelli sono alleati Ecco Ho notato che lagga Veramente tanto Quando sei dentro Il titano Oh mio dio Perché così non muoiono Mi ha dato strage Ragazzi Ecco Poi un'altra bella cosa Per uccidere Vedete vedere Vieni qua caro amico Imballato LOL Quello è morto Questo è morto Sì Pensi di fare Amico Venite fuori Subito Tanto morire E questo Che cazzo Pensi di fare E anche quello Aia Aia Oh ma questo qui è nemico Vai 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 No 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 C'è un piccolo problema Mi stanno uccidendo No 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 E tu morirai Perfetto Mi stanno facendo fuori Mi sa Qui intanto Spawnano nemici Fuga 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 Vai Ecco l'unica cosa del titan Che non può saltare È molto lento Mio dio Un titan nemico Ragazzi Fuga Ho poca vita Eh questo mi uccide Mi sa Come cavolo si faceva A prendere la barriera Non mi ricordo più Vai Dai che lo uccidiamo Eject Grandissimo Il titan è imploso Tipo ragazzi È morto Ecco poi sono diventato invisibili Col tasto qui diventi Invisibile Ragazzi sto facendo delle stragi Non sono neanche primo Ho fatto 23 kill Sono tipo penultimo Tanto per farvi capire Quanto è semplice Fare delle kill In questo gioco Oh mio dio Infatti si muore Veramente con niente La vita Secondo me è tipo Come un fanatico Hardcore Di battlefield 4 Oppure hardcore Di code Infatti C'è pochissima vita Non so se sia questa modalità Non penso Perché secondo me Mi sa attalante Di un deathmatch a squadre Questa modalità Però mi sta piacendo molto Infatti penso che Non l'ho ancora preordinato Preordinato Però penso che lo farò Perché è un gioco Veramente epico Da giocare così Ogni tanto Oh mio dio Quanti ce ne sono qua Fuga 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 Muoio Qui muoio Qui ci rimango No Eh si La gente che non ci sa giocare Fuga tattica Fuga tattica Fuga Fugatela Fugatela Oh ma che cacchio fanno questi Non mi sparano Oh mi uccidete Ah ok No perché Mi sembrava troppo facile 29 kill Sono quarto Sta venendo Un altro titan Vai 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 subito Grandissimo Camperiamocela Così non Me lo fottono Ma ci si può Straiare in questo gioco Oh mio dio Titan mio Vai Grandissimo C'è un altro po' di strage Ragazzi Mi raccomando Intanto lasciate un bel like A questo video Se vi dovesse essere piaciuto Se vi sta piacendo Però anche se non vi piace Lasciatelo lo stesso Perché Mi piace così Così sono contento Victory ragazzi Abbiamo vinto Livello 3 Addirittura Sono anche salito di livello Però penso che Che questo morirà Almeno Spero Spostati Amico Ci stiamo facendo Un male bestia È imploso Titan assist 100 punti Ma Victory La partita è finita Oh mio dio Ma è finita la partita Non capisco ragazzi Chissà di sì Prima che se me finisce Intanto muore Oh muori Ok è morto Va bene Don't let the enemy escape Il mio inglese Scorreggiuto È quello che ho pensato di fare E quei due li che ho pensato di fare Ragazzi sto facendo Mi dice mai Sto gioco qua Mi drogherò Quando uscirà Non va mica È finita la partita ragazzi Non va mica bene Comunque questo gioco Che sia così figo Perché ragazzi Mi raccomando Non voglio fare i droghi così cari Ma veramente figo Sto gioco Quindi ragazzi Mi raccomando Lasciate un like Se vi sia piaciuto Commentatemi questo video Iscrivendomi Se anche voi avete ricevuto Il gioco Con questo io vi saluto Iscrivetevi al canale Mi raccomando Con questo io vi saluto Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ne arriveranno Ne arriveranno Ciao